Come in ogni grande crisi, molte delle nostre più radicate convinzioni vengono clamorosamente smentite ed altre confermate. Le donne salveranno il mondo. Sembra banale? Per la prima volta nella nostra storia, come nella vita di milioni di persone, i principi dell'antica base imprenditoriale organizzazione, programmazione e controllo non erano più un riferimento. Improvvisamente tutto era stravolto. Congelato. La dimensione maschile, pragmatica, organizzatrice trovatasi di fronte all'ignoto più assoluto fino a mettere in discussione la sopravvivenza di ciò che abbiamo costruito in tanti anni con tanto amore, dedizione e passione. L'amore può essere irrazionale, ma sa prendere il buono e crescerlo in meglio. La storia ci ha insegnato che da ogni grande crisi nasce una nuova opportunità. La parte più bella dell'umanità, più sognante, più capace di vivere l'amore, di donare speranza dove non se ne intravede, quella femminile è esplosa. Mentre la parte maschile di me, legata alla terra, era congelata, impanicata. L'altra più libera, più spontanea, aperta ad accogliere l'incertezza, ad affidarsi alle leggi dell'amore. Quella parte di noi indicava un nuovo inizio.